Uno sciopero generale che metta al centro la difesa del lavoro e del futuro della Piana del Sele. E' la proposta che arriva dalla sezione di battipaglia del Partito Comunista, alla base della richiesta di mobilitazione la situazione della Treofan, per la quale il segretario Rocco Simone chiede la nazionalizzazione. In noi da sempre, da dicembre, quando iniziate questa vicenda dolorosa anche per i lavoratori della Treofan, chiediamo alle organizzazioni sindacali e alle amministrazioni locali di tutta la Piana del Sele di proclamare lo sciopero generale per la difesa dei posti di lavoro, non soltanto della Treofan, per tutti i problemi che ci sono nella nostra Piana del Sele. E' una situazione abbastanza grave e deve essere eseguita attentamente sia dalle organizzazioni sindacali ma specialmente da tutte le amministrazioni che si affacciano sulla Piana del Sele. La vostra proposta è quella di una nazionalizzazione? Sì, come sempre. La nostra proposta è molto lineare, coerente e chiara. Noi siamo per la nazionalizzazione della Treofan, proprio per la difesa dei posti di lavoro e affinché lo stabilimento rimanga a battipaglia e conservi per quanto riguarda i posti di lavoro a battipaglia. Come giudica la posizione di Di Maio? La posizione di Di Maio, guardi, è veramente incredibile, è emblematica. Non si riesce a capire come mai il ministro Di Maio sia venuto anche a battipaglia, abbia preso dei precisi impegni con i lavoratori e per ben tre volte a Roma era assente. Questo è gravissimo da parte di un ministro in carica. Poteva tranquillamente e nel suo potere applicare gli articoli della Costituzione. Gli articoli della Costituzione, il numero 41, 42 e 43, parlano chiara, ha il suo potere anche di nazionalizzare le aziende per salvare i posti di lavoro. Questo è nel potere di Di Maio come ministro del lavoro. Domani sarete in Via Italia. Domani saremo in Via Italia dalle 16 alle 21 per un gazebo informativo del partito. Parleremo della Treofan, parleremo di tutta l'iniziativa del partito, ma specialmente proprio per questo, perché siamo di battipaglia, il partito comunista di battipaglia, oltre a livello nazionale, ci stiamo occupando di questa vicenda. Abbiamo invitato tutti le organizzazioni sindacali, abbiamo invitato tutti gli emittenti, abbiamo invitato i cittadini, tutti coloro che vogliono far parte di questa iniziativa, sono i benvenuti per difendere i posti di lavoro.